La libertà dei cittadini e delle attività economiche non devono essere in alcun modo messe in discussione. Il contributo d'accesso non regolamente i flussi turistici, ma fa pagare solo chi entra nelle giornate di punta. Il Partito Democratico di Venezia boccia il provvedimento del Comune per la regolamentazione dei flussi turistici e mette sul campo le sue controproposte. Noi abbiamo pensato che sia assolutamente necessaria una ZTL sul Ponte della Libertà per regolamentare la flusso delle auto in arrivo. Abbiamo pensato che sia assolutamente necessario fare una ZTL lagunare per regolamentare anche gli arrivi delle imbarcazioni. Abbiamo pensato che va individuato un numero obiettivo che è basato sui posti letto in città, sugli escursionisti, ma ha pensato anche con le crociere, con il porto, con gli stakeholders, con l'aeroporto e quindi una programmazione globale. La controproposta del Partito Democratico è stata definita sulla stampa dall'assessore Michele Zuin un compitino di belle parole, con dentro diverse contraddizioni e con più di un problema di applicazione. Sostanzialmente l'opinione che la controparte ha del contributo d'accesso. Questo provvedimento serve solo, caso mai forse, per fare cassa, se ci riuscirà mai, dato che continua a essere rinviato, ma di certo non per limitare i flussi turistici. Limiteranno invece la vita dei veneziani con una serie di problemi anche legati alla privacy, legati ai propri familiari, ai propri affetti, ma anche alla vita economica, se pensiamo ai tanti professionisti che dovranno dichiarare chi sarà cliente del loro studio, per esempio, oppure i medici che dovranno dichiarare quali sono i loro pazienti.